I voltini di salmone al forno sono gustosi e perfetti per ogni occasione Trita finemente il porro Sminuzza anche il merluzzo Versalo poi in una ciotola, unisci parte delle olive, parte dei capperi e parte del porro Aggiungi del pepe, del sale e un filo d'olio Mescola bene il tutto e tieni da parte Trita anche delle foglie di basilico e unisci il ripieno Taglia due fettine di limone e poi ricava quattro spicchi Versa nella pirofila un cucchiaio d'olio, aggiungi il restante porro, le olive e i capperi Prendi una feta di salmone, aggiungi al centro il ripieno di merluzzo e porro, arrotola il salmone e fermarlo con un filo d'erba cipollina Mettete gli involtini nella pirofila, aggiungete le fettine di limone che abbiamo tagliato precedentemente, del succo di limone, sale, pepe, un filo d'olio extravergine e bagnate con il vino Fate cuocere a forno già caldo a 180 gradi per 15 minuti Grazie a tutti!